ciao a tutti in questo video vi parlerò di un argomento che viene molto oggetto diciamo di molti quesiti in ambito odontoiatrico ma anche sul mio canale youtube molti utenti mi hanno chiesto questa cosa cioè fino a che età è possibile appunto andare ad espandere il palato praticamente diciamo che in realtà se vogliamo essere molto precisi non esiste un'età specifica alla quale è possibile andare ad espandere il palato ma in linea di massima si consiglia appunto tra i 9 e i massimo gli 11 anni per poter appunto andare ad espandere il palato in realtà però tutto questo e me la faccio breve proprio per non annoiarvi dipende da un aspetto diciamo molto molto importante cioè mi spiego meglio dipende praticamente dal grado di ossificazione della sutura palatale cioè quando si espande il palato si va ad agire praticamente a livello di questa sutura che ne permette l'espansione questo appunto il palato in realtà il palato è formato da due ossa palatali perché sono appunto due ossa pari e simmetriche e questa è la sutura palatina in linea di massima l'espansore del palato va ad agire a questo livello andando ad espandere questa sutura e a romperla in buona sostanza e in mezzo al gap che si crea allo spazio che si crea si riformerà nuovo osso in questo modo il palato ovviamente sarà stato espanso per poter capire se è possibile espandere o meno però il palato bisogna appunto valutare il grado di ossificazione di questa sutura cioè quanti ponti ossei sono presenti a livello di questa sutura quanto questa sutura è ossificata non c'è in realtà ancora oggi in letteratura scientifica un'età specifica che indichi appunto di diciamo un età standard ci sono soggetti adulti che hanno ancora dei ponti ossei carenti e soggetti che già 12 13 anni hanno già dei ponti ossei completamente chiusi per cui è fondamentale valutare questo aspetto e per poter capire però il grado di ossificazione della sutura bisognerà eseguire un esame medico che si chiama l'attack ora mi rendo conto che spesso chiaramente non è una cosa pratica fare un attack per espandere il palato però chiaramente un attack che non ha un'elevata dose di radiazioni e che permette comunque sia di attuare un piano terapeutico che non crei alcun tipo di problematica questo è stato proposto da uno studioso che si chiama appunto angelieri nel 2013 il quale appunto ha proposto una classificazione sul grado di ossificazione della sutura palatale mediana osservato alla attack praticamente e quindi si possono distinguere appunto vari gradi di ossificazione il grado a e il grado b e quando appunto i ponti ossei diciamo non si sono completamente diciamo formati anzi sono pochissimi e quindi si può espandere senza problemi poi abbiamo un grado c in cui l'espansione è poco efficace e quindi chiaramente bisognerà ausiliarsi per esempio con delle mini viti per poter espandere il palato e poi il grado d in in cui praticamente la sutura palatale mediana è completamente saldata e quindi non si può andare ad espandere il palato o meglio si può mettere un espansore ma non si sta espandendo il palato si agisce soltanto sui denti che appunto vengono allargati in buona sostanza lo dico in maniera molto semplice ma appunto non si sta espandendo in questo modo quindi se ci troviamo a questo livello cioè a un grado di allora in quel caso sarà necessario implementare l'espansione con la chirurgia maxillo facciale quindi si può espandere il palato ma con interventi con associati interventi di chirurgia maxillo facciale si chiama appunto espansione palatale chirurgicamente assistita che richiede quindi una collaborazione tra il dentista cioè l'odontoriatra e diciamo il chirurgo maxillo facciale chiaramente molto spesso sono interventi che richiederanno di rimando una anestesia generale generale scusate infatti quando si espande il palato quando si mette l'espansore soprattutto nei bambini questi sono appunto gli incisivi centrali superiori praticamente scusate il disegno che non è il massimo però quando si espande il palato nei bambini si apre lo spazio tra questi due incisivi che saranno appunto più distanti ci sarà presente questo spazio qui che si chiama appunto diastema e questo spazio che si crea a seguito dell'applicazione dell'espansore questo nei bambini di solito indica appunto che l'espansione è avvenuta ma nell'adulto in cui i ponti ossei possono essere completamente formati a livello della sutura la formazione del diastema non è indice di avvenuta l'espansione probabilmente diciamo l'espansione agito solamente sugli elementi dentali per poter capire se l'espansione agito correttamente è necessario appunto andare ad eseguire una tac perché appunto è la tac che ci permette di vedere oltre non abbiamo i raggi x per andare a vedere al di sotto della mucosa diciamo che cosa c'è diciamo così e chiaramente diciamo che per poter separare la sutura palatale mediana sono comunque sia necessarie delle forze pesanti quando si espande il palato però nel momento in cui il palato è tipo così cioè molto stretto e quindi bisogna allargarlo perché il palato stretto ovviamente comporta diverse problematiche cioè dovrebbe avere questa forma invece il palato in linea di massima il palato stretto si ha spesso in soggetti che hanno una respirazione orale e quindi se si espande il palato si espande anche la base del naso che corrisponde al tetto del palato e quindi questo favorirà una migliore respirazione nasale tuttavia è fondamentale la tac quindi vedere se è possibile espandere il palato meno perché se l'espansione del palato viene emesso nel momento in cui i ponti ossei si sono completamente saldati quindi la sutura è completamente saldata può creare diversi effetti collaterali come appunto un aumento della divergenza cranica cioè aumenta la dimensione verticale del volto a livello della mascella della mandibola e questo chiaramente comporterà dei problemi sia le nostre articolazioni temporo mandibolari che anche a carico dei nostri elementi dentali e poi diciamo che potrebbe anche provocare delle problematiche alla vista quindi potrebbe quindi in primis dare problemi articolari a carico del condilo praticamente all'interno della cavità glenoide ma potrebbe anche comportare delle problematiche a carico della vista come per esempio delle emorragie sotto palpebrali o anche una variazione nella posizione delle orbite e poi in alcuni diciamo individui potrebbe anche determinare un mal di testa molto intenso soprattutto in età adulta l'espansore del palato può dare appunto queste cefalie molto forti cioè comunque fa molto male tenere l'espansore in età adulta ecco perché un caso diverso dall'altro e tutto quanto deve essere valutato nel rispetto della salute del paziente in modo tale appunto da non ledere e con una accurata diagnosi ci sono oltre all'espansione del palato anche altri dispositivi che permettono di espandere il palato quindi nel momento in cui un espansore non è raccomandato soprattutto se il paziente è iperdivergente si possono utilizzare altri dispositivi se invece si vuole ottenere una sola espansione dentale il dispositivo più utilizzato della cosiddetta placca di schwarz che serve appunto ad espandere il diciamo i denti agisce solamente sui denti quindi da un'espansione dentale e non scheletrica i utilizzi del palato anche negativano il ragionese le